Ed eccoci qua carissimi amici, diretta pazzesca, guardate abbiamo qua in primo piano questo cagnone Renato Incredibile amici la diretta di Teletress, Marvin mi ha chiamato e sono corso qua, ho lasciato il lavoro perché c'è qualcosa di fenomenale, è tutto per voi È pazzesco, intanto abbiamo visto qua una lancia LX qua in demolizione, carissimo Renato ma la grande sorpresa, vieni Renato Trattieniti Renato, trattieniti, andiamo lentamente No, 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 non è possibile C'è la demolizione, guardate qua, siamo in autodemolizione, è pazzesco Stupendo, stupendo, la diretta di Teletress, guardate, Fiat 850 Special, stupenda, inizio anni 70 È un peccato vederla qua in demolizione Renato, per una bruciatura qua il motore, vieni qua Renato, guarda Stupenda amici, vi apro anche il motore se volete Stupenda, guardate che motore ragazzi, questa si poteva mettere a posto benissimo, motore posteriore, macchina da gran signore amici Ma veramente, poi il signore ci aveva fatto un sacco di lavori e ha detto che il motore è perfetto, guarda, è anche pulito insomma Facevi alcuni lavoretti e la rimettevi a posto questa macchina È pazzesco, il signore si è stufato, ha detto, senti, porto la macchina in autodemolizione, sono stufo di fargli i lavori Non puoi rimarmi e demolermi un gioiello, questo è un gioiellino amici, un gioiellino, tutto per voi amici Guardate qua carissimi amici, è pazzesco, oh Renato facciamo vedere la grande novità subito Vi presentiamo la grandissima novità in diretta per i nostri amici e per tutte le nostre amiche di Teletrash Guardate carissimi amici, questa per voi amiche È la gran diretta, guardate, la cagnolina qua, voluta da mia moglie, Luna, guardate qua la diretta, Luna nell'850 special, guardate l'850 spettacolare Guardate Luna, Luna è contenta, ormai ti sei già abituata a venire col Marvin, a Rottami, a camio Guardate qua, prima Fantastico, incredibile, guardate per tutte le nostre amiche di Teletrash Guardate qua carissimi amici, spettacolo Ed eccoci qua, abbiamo visto appunto questa auto favolosa, eccezionale Ed eccoci qua carissimi amici, è la diretta, spettacolare, Fiat 850 Guardate Guardate qua, i cani, guarda, guarda Renato, spettacolare questa auto, insomma Vieni, vieni Renato, dai, dimmi qualcosa, qua è la diretta La diretta, qua ci stanno guardando, ci stanno guardando, ci sono anche i fuori vigili, urbani, c'è di tutto, insomma, la gente è un po', è qua, insomma Speriamo che non entrino, perché questa volta è pazzesco Qua la gente è fuori, un posto di controllo, speriamo che non ci fermino, che non entrino, amici Esatto, che non siamo noi matti, insomma, da portare via Guardate qua carissimi amici, una diretta pazzesca Renato, eh, colpi di scena, a non finire Tu vieni amici, questa è la diretta, Teletrash in diretta, guardate, è uno spettacolo, questa Fiat 850 special Guarda, riaprimi, riaprimi Renato, dai Guardate per tutte le nostre amiche all'interno, Luna Guardate, Luna, guardate, guardate gli interni, nuovi di Zecca, pazzesco, pazzesco È incredibile questa macchina, stupenda, magnifica, vero vintage È vintage carissimi amici, guardate Vero profumo, anni 70 amici, respirate Brava Luna, vedo che ti piace l'autodietra, spettacolo, spettacolo Respira, Marvina, pieni polmoni, respira Vai Renato, dimmi qualcosa, te, dai È fantastica, amici, guardate la diretta, fantastica È spettacolo, carissimi amici, vi abbiamo fatto vedere una diretta pazzesca, insomma Ah Renato, qua nel vintage totale, addirittura con i cani, nella natura totale qua, cosa dici Renato? Questo è vero vintage, questa è vera natura, questa è la Luna, la nuova cagnetta del Marvina, amici Spettacolo, abbiamo fatto contento mia moglie, abbiamo messo la sua cagnolina nell'850, dai Va benissimo Renato, qua salutiamo il nostro pubblico Alla prossima, se ci saremo ancora, ciao amici Ciao a tutti, amici